A EICMA 2015 siamo allo stand della Quadro, una delle particolarità perché non si tratta di due ruote, in questo caso addirittura di quattro ruote. Sì, effettivamente sì, quattro ruote. Questo è il secondo anno perché il quadro 4 è stato presentato ad EICMA dell'anno scorso, ora siamo sul mercato da giugno con questa assoluta novità. Quattro ruote perché? Perché sicuramente meglio di due, si guida come in due ruote ma ha la sicurezza di quattro ruote. Quindi chi vuole godersi la sicurezza di un'auto viaggiando con il vento in faccia deve comprarsi un quadro 4. Quindi si può piegare con questa moto? Assolutamente sì, si piega come una moto ma con un'assoluta sicurezza, senza preoccuparsi del briciolino, del pavè, delle rotaie. Cilindrata, prestazioni, com'è? Allora, questo è un motore monocilindrico, quattro valvole con doppio contralbero, quindi le vibrazioni sono quelle pari a quelle di un'auto. Ripeto, 350, 30 CV. Abbiamo scelto una cilindrata mediana per garantire dei costi di esercizio molto bassi, quindi quelli di uno scooter 350 e non 500. Consumi contenuti, un serbatoio di circa 15 litri con 300 km di autonomia, quindi adatto ad un largo pubblico. Ricordiamo comunque una cosa importante, che questo veicolo si guida con la patente B, quindi non è necessario avere la patente della moto. Ecco, e allora ci sono già le novità però per l'anno prossimo, abbiamo delle concept qui, di cosa si tratta? Sì, allora abbiamo presentato un concept con motorizzazione elettrica, perché ovviamente nel futuro di quadro c'è l'idea di presentare un veicolo elettrico, però come siamo abituati noi vorremmo presentare un qualcosa di veramente diverso da quello che la gente è abituata a vedere come veicoli elettrici, quindi sarà una sorpresa. Grazie.